Enrico Brignano piange un'altra persona a lui vicina dopo la morte del suo maestro Gigi Proietti che l'ha toccato particolarmente. Ieri il comico ha perso la sua storica sarta Loretta. Prima di essere la sua sarta aveva accompagnato proprio Gigi Proietti durante la sua carriera. Ieri il noto attore ha voluto dedicare il suo ultimo saluto alla donna che aveva un brutto male di cui non era a conoscenza nessuno. Il messaggio ha commosso tutti infatti per lo stesso Brignano è stato un duro colpo soprattutto perché è trascorso troppo poco tempo dal 2 novembre e deve ancora metabolizzare la scomparsa di Gigi Proietti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!